Sanremo, Christian De Sica prende in giro Ferragni, il post esilarante sui social. Sanremo il vestito indossato da Chiara Ferragni che ricalca le linee del suo corpo. Seno compreso, ha scatenato una serie di commenti di variegata natura. Tra i tanti spicca quello di un famoso spettatore. L'attore Christian De Sica che, sul proprio profilo Instagram, fa notare all'influencer di aver lanciato lui la moda dei vestiti che ripropongono le fattezze del proprio corpo. Più di 40 anni fa, già fatto con l'emoticon di una risata il commento di De Sica che posta una foto esilarante. De Sica pioniere l'attore romano ha infatti pubblicato una foto in cui indossa una maglietta molto simile a quella indossata dalla Ferragni sul palco dell'Ariston, si tratta di un abito di scena che indossava nel film Borotalco del 1982. Nella scena cut in cui bala senza freni insieme all'amico e collega Carlo Verdone. Una foto che ha scatenato i follower tra risate e battute ironiche. Tra i like al post spicca quello di Eleonora Giorgi. Che in quel film era la coprotagonista femminile. Virgola.